Ciao Simone, BFT Italia. Oggi vi presentiamo la Perch Bag, una borsa che potete trovare sul nostro sito www.canariasfishing.com Una borsa che viene venduta con quattro plano, quindi super accessoriata, doppio scompartimento, waterproof, porta attrezzi, c'è la linea frontale, anche lì porta attrezzi. Cosa dire? Molto capiente, insieme a questa ci sarà anche la waterproof Predator Bag, molto più grossa, anche lei che viene fornita con quattro plano con peresche molto grosse. Ci vediamo su www.canariasfishing.com. Ciao!